A proposito di strumenti economici di sostegno, onorevole Cesa, c'è da dire che in Europa si registrano sensibilità diverse su questo fronte della lotta ai cambiamenti climatici e in generale in materia ambientale. Ci sono differenze tra nord, sud, anche est e ovest. Sarà un caso che poi in quei paesi che hanno più problemi nel tenere in ordine i loro conti pubblici, che siano proprio questi paesi in cui poi le politiche ambientali restano un po' sullo sfondo? Beh, questo accade, non solo nel settore ambientale, ma in tanti altri settori, che ci sono delle diversità di applicazione di quello che noi facciamo a Bruxelles e a Strasburgo, vengono applicati in maniera più o meno ritardata o più o meno corretta rispetto al lavoro che noi facciamo. Comunque voglio dire una cosa, che veramente questa ragazza ha scosso un po' le coscienze di tutti noi, perché viviamo comunque in un unico pianeta e dobbiamo assolutamente rispettare poi le risorse che noi abbiamo e ce le dobbiamo veramente mantenere con molta cura e rispettare sempre di più l'ambiente. In Europa, rispetto al resto del mondo, abbiamo fatto passi da gigante, ecco, non condivido tanto l'opinione della collega, abbiamo fatto passi da gigante perché c'è una sensibilità molto forte, perché non possiamo stare a guardare e la politica non può non decidere rispetto a dati impressionanti. 400 mila europei muoiono per motivi di inquinamento in Europa, 6 milioni nel mondo muoiono, dati OMS, nel mondo perché appunto non custodiamo il nostro pianeta nella maniera dovuta. In Europa c'è una sensibilità molto forte, ci siamo dati degli obiettivi molto nel tempo limitati, anche vicini, abbiamo anche abbreviati i tempi perché vogliamo assolutamente raggiungere l'abbattimento dell'emissione del CO2. e arrivare ad un'economia a impatto zero. Lei parlava di sensibilità differenti, ora anche la sensibilità della Cina, almeno questi sono gli annunci, è cambiata negli ultimi tempi. Ora lei ritiene, poi parleremo della via della seta, adesso da un punto di vista climatico e di politica ambientale, crede che la Cina sia un interlocutore affidabile, al di là degli annunci e degli impegni che ha anche preso, lo ricordiamo, con l'Unione Europea. Allora, la quantità, ho i dati, quindi le emissioni principali di CO2 avvengono proprio in Cina, stiamo parlando di 9 miliardi, cose allucinanti. Ho sentito con molta attenzione le dichiarazioni che ha rilasciato il collega della Lega, noi non dovremo ricevere qua il Presidente cinese nei prossimi giorni. Se andiamo a vedere le emissioni della Cina, 9 milioni, 839 milioni di tonnellate di CO2 vengono emesse dalla Cina. Quindi è difficile che la Cina riesca a onorare gli impegni presi a Parigi. Ci vorrà del tempo per arrivare a raggiungere gli obiettivi, anche che in Europa ci siamo dati, ma dobbiamo mettercelo tutta, restringere i tempi, portare quel 2050 al 2030, sia nel settore, perché la gran parte delle emissioni del CO2 avviene per la produzione di energia. No, il 75% nel resto del mondo delle emissioni del CO2 avviene per la produzione di energia. In Europa siamo al 50%, quindi rispetto alle altre parti del mondo noi già stiamo... Abbiamo comunque una posizione di leadership nel mondo. Poi anche sulla macchina elettrica, sulla mobilità e sulle smart city noi stiamo molto più avanti che nel resto del mondo. La palla passerà al Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo. E lo ricordiamo che peraltro occorre il voto all'unanimità dei 27 Paesi membri per concedere il rinvio. A suo avviso ci sarà un rinvio? Sarà breve? Ma io mi auguro di sì, perché l'Europa ha dimostrato un grande buonsenso. Barnier è stato uno straordinario punto di riferimento sia per il Parlamento che per la Commissione. ha fatto un ottimo lavoro. Bisogna arrivare ad un accordo con gli inglesi. Bisogna mettercela tutta, dare la possibilità di avere ancora questi due mesi, tre mesi per poter arrivare a concludere un accordo perché altrimenti sarebbe un danno enorme innanzitutto per gli inglesi. Se oggi forse andassero a rivotare non voterebbero come hanno votato. ed anche per noi, perché abbiamo 4 milioni di europei che vivono in Inghilterra e 800 mila di italiani che vivono lì, che dobbiamo tutelare in tutti i modi. Abbiamo un problema molto serio in Irlanda, perché ripristiniamo le frontiere e torniamo a 20 anni fa quando si sparavano da una parte all'altra, su cui l'Europa ha lavorato con molta serietà e molto buonsenso concedendo anche grandi possibilità all'Inghilterra di poter uscire con dignità da questa vicenda. Onorevole Cesa, intanto il Premier Conte ha assicurato che nessun asset strategico è a rischio che l'Italia ha preteso imposto il rispetto delle regole europee su questo memorandum di intesa. Voi cosa ne pensate di questo accordo sulla nuova via della seta? Anche per voi ci sono dei rischi? Allora, intanto è assurdo che non si sappia ad oggi quale sia il contenuto di questo memorandum. Stiamo parlando di memorandum, non di singoli accordi commerciali, perché il Presidente cinese andrà poi in Francia e farà degli accordi commerciali, come ha fatto con tanti altri paesi, ma accordi commerciali singoli. Qui stiamo parlando di un memorandum, quindi una cosa molto più ampia, che dovrebbe fare l'Europa. Noi come Partito Popolare Europeo, e lo abbiamo nel programma del Partito Popolare Europeo, siamo d'accordo a stringere accordi commerciali, lo abbiamo fatto negli Stati Uniti, che ora si è bloccato con il TTIP, con il Canada, con il Giappone, con altri paesi, perché 30 milioni di europei lavorano grazie alle esportazioni che l'Europa fa nel resto del mondo. Quindi ogni miliardo di esportazioni in più comporta la creazione di 12 mila posti di lavoro, e quindi è importante incentivare queste cose, ma farlo con le modalità con cui lo stiamo facendo noi, senza nessun raccordo con l'Europa, è assolutamente sbagliato. Non si può pensare che l'Italia diventi la piattaforma da colonizzare da parte dei cinesi per poter poi entrare nel resto dell'Europa. Voglio ricordare un dato. Noi abbiamo 250 miliardi di esportazioni, è una cosa che il Presidente Conti e chi si occupa di questa materia dovrebbe sapere. Quando noi esportiamo 250 miliardi nel resto d'Europa, ne esportiamo 30 in questo momento, 30 in America e 15 in Cina, dovremmo stare attenti a trattare in maniera adeguata il rapporto con i cinesi, che altrimenti potremmo avere ripercussioni molto forti, perché in politica estera nulla avviene a caso, perché se uno fa un'azione poi c'è una reazione. Prevole Cesa, sono in molti a dire che queste saranno le elezioni più sentite della storia europea, ma anche forse le più difficili. Sarà davvero, come in molti dicono, un confronto tra europeisti e sovranisti o populisti che dir si voglia? Sarà un confronto davvero così polarizzato? Si tenta di farlo passare come un confronto polarizzato, ma sarà come tutte le altre volte un confronto tranquillo e tra forze idee di Europa. Noi partiti popolari siamo per avere un'Europa politicamente più forte, arrivare agli Stati Uniti d'Europa attraverso la serie di passaggi, perché sappiamo esattamente cosa bisogna cambiare. Così com'è l'Europa non funziona, abbiamo tre istituzioni che così come oggi non portano a decisioni veloci che dovrebbero essere assunte da un continente come l'Europa. Ma io non vedo grandi stravolgimenti nel prossimo Parlamento europeo. Sentiamo su questo Cesa, non solo la giovane Fabrizia Di Lorenzo, ricordiamo anche il giovane Antonio Megalizzi, rimasto ucciso nell'attentato di Strasburgo dello scorso dicembre. Eravamo lì. Scusi? Eravamo lì, Strasburgo peraltro si è trasformato in una città molto triste da quel giorno. Quindi ancora sente il peso di quell'attentato terroristico che ha visto poi questo nostro ragazzo morire. Crede che la risposta europea alla sfida del terrorismo oggi sia adeguata? Ma sono stati fatti, fino a qualche tempo fa no, ma sono stati fatti dei passi in avanti. Si sta amalgamando un po' il sistema della sicurezza, cercando di fare un lavoro tra intelligence e coordinato, avere quindi un database comune che controlli tutti gli ingressi in Europa. Si stanno facendo dei passi in avanti, si sta rafforzando Frontex. Si vuole realizzare una polizia di frontiera gestita dall'Europa per garantire le frontiere e soprattutto veramente mettere su organismi europei per affrontare insieme, tutti insieme, il tema del terrorismo perché nessuno da solo può contrastare un fenomeno. Grazie a tutti.